La scuola è con noi il bomber marrazzo. La scuola è arrivata con il snare e ti ha fatto una minaccia di gol. L'istante è che la scuola inizia, quindi la scuola deve fare nel dubbio. Speriamo. No, speriamo, la scuola deve fare. L'anno scorso sono stato praticamente minacciato appena arrivati. Se non fai gol, prendi le mazzate e quindi ero costretto. Bene, loro minacciaranno anche noi e facciamo il dubbio di gol per la scuola. Sì, abbiamo visto già l'altra partita, cominciamo a conoscerci. Poi questi sono i test importanti per noi, proprio per permettere ai nuovi di inserirsi negli schemi del mister, capire anche loro come sono abituati a muoversi e tutto. Però come hai detto con te e con Marco non c'è nessun problema, ci conosciamo già alla grande. Sarà la possibilità di aver giocato tutti i tre insomma? Sarà due ore? Credo proprio di no. Credo di no, anche perché secondo me per allestire una squadra come la nostra, come è stata fatta il Piacenza, che comunque vuoi giocare per un posto importante e devi avere comunque anche in panchina dei giocatori rivali per poter sostituire i due tutelari. Senta, quando sei in campo, hai capito bene perché mi ha detto che hanno qualche problema a spiegare con i tuoi compagni. Quei due sono stati in giro perché capisci a me cosa dice, vero? Quello è vero, lo sappiamo tutti. Ormai conoscono, eh? Sì, qualche volta mi spazio per Bresciano, per Piacentino, ma no. Ma hai fatica spazio per Bresciano? Sì, faccio fatica, non mi credono, però va bene. Va bene, grazie, Bomber, tanto augurio e marcomando, hai il dubbio di gol dell'anno passato. Ok, tardi che mi piace in te. Sì, padre.